500 euro a fondo perduto per l'acquisto di tablet, pc oppure di abbonamenti per accedere a internet. Per ricevere il contributo si deve avere un'ISA inferiore a 20.000 euro. Questo aiuto per i cittadini arriva con risorse statali. È il voucher connettività. Credo che con questo messaggio si possa davvero andare incontro alle esigenze dei ragazzi, di molte famiglie che trovano difficoltà o per motivi di connessione o per motivi di materiale non adeguato a seguire la didattica a distanza. L'assessore alla connettività della Toscana, Stefano Cioffo, ha sottolineato che questo importante provvedimento ha un problema di comunicazione. Molte di questi messaggi vengono trasmessi dagli operatori e non come messaggio istituzionale. Nella confusione delle offerte economiche rischia di andare perduto invece il contenuto vero. Risorse pubbliche messe a disposizione per i cittadini, anche se veicolate dagli operatori e dai gestori della telefonia. Per accedere al voucher i cittadini possono rivolgersi direttamente ad uno degli operatori accreditati. Il provvedimento iniziale è stato corretto allargandolo a possibilità di utilizzazione del voucher in tutti i comuni del territorio regionale, superando quella limitazione che lo vedeva inizialmente dedicato alle aree bianche e alle aree montane.